Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale Inter Stare la Rossa, seconda giornata di Champions League, dopo la prima fatta bene a Manchester e iniziata adesso. Ragazzi, oggi non dico niente, oggi i tre punti direi che devono essere l'obiettivo, mi sembra chiaro, Inter Stare la Rossa, anche le mie parate sono toste, quindi oggi bisogna assolutamente fare i tre punti ragazzi, dai eh! GOOOOOOOL!!! Forca trefico l'ha fatto, forca trefico l'ha fatto, mamma mia ciala, eh la prima punizione che segna, non aveva ancora studiato su punizione da quando era con noi, minchia che gol, che punizione che ha tirato, grande ciala, grande ciala, grande! Per il resto, ritmi veramente lentissimi, Sì, 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 sembra una amica olessiva, sembra! C'è, ci sono altre squadre tipo City Baccione che ne hanno fatti 3-4 in un tempo, cioè adesso voglio dire, non penso che cosa è la Rossa, che cosa è la Rossa non possiamo anche noi fare nei 2-3 in tempo, cioè il problema è che siamo realmente giocando a ritmi, quindi, vabbè, qua è rischioso, eh, perché l'inquadro poi sempre dietro l'angolo, però, vanno via! Secondo tempo, ragazzi, un po' più di qualcuno, però, qua, ci addormentiamo! Inizia, un po' più di qualcuno, no, canto da tenere per amica! I liberi luogo! Minchia è ancora Taremi che la la dover recuperare, sta palla, da pressare! Buonire prima o te! No, infatti lì ha molto meglio Taremi già in Napoli, c'è. Ha molto meglio Taremi già in Napoli! E continuano a difenderlo, cari El Severino! Vai a mettere un cazzo, cioè... sono giusti i fischi, è una stagione e mezzo che fa cagare guardate 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 alziamo un po' il ritmo guardate bene di prima bello come fai come fai come fai come fai guardate portiere stoppare la palla ero strumento gli ha tirato addosso la donna è un po' sicuro perché perché a me si è tirato di prima ma fai ha stoppato la palla e ha alzato la testa e lo ha dato il ritmo fai che ha girato addosso ma fai bravo 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 sè mamma mia fare mamma mia fare mamma mia fare mamma mia fare due 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 sbloccato sbloccato a vuoto bravissimo da re ragazzi e da l'assist 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 come fai entrare così ma che cazzo fai entrare così ma che cazzo fai entrare così senza minimo temporeggiare un boom sull'uomo dritto mamma mia che scassi ragazzi eh giustamente giustamente se lo nepa speriamo eh farlo Taremi perché te lo nevi vado Taremi vado Taremi andiamo 4 a 0 meritato meritato fatto una grandissima partita migliori in canto assolutamente due assist tanto sacrificio e il gol meritato bravo Taremi e 4 a 0 e bravi ragazzi bravi ragazzi bravi carmelo nel secondo tempo l'ha spinto un po' di più mi ha fatto si tre gol che è importante perché secondo me in qualche modo si arriverà a pari punti con altre squadre e quindi a fare tanti gol è una buona cosa bravo Taremi rispondire in campo in generale buona Inter però avversaria quello che era bene così testa sabato col Torino e quella veramente importante ed è tosta perché poi c'è la sosta e con camicia che aveva sosta vai ragazzi avendo il primo gol avendo il primo gol